Tre storie di sport sociale per tutti, tre diverse città dove promozione della salute, promozione della socialità e stili di vita significano un nuovo modo di fare sport. Sono Martino Dalprae, mi occupo nella città di Roma per la WISP di attività motorie per anziani. Nel mio lavoro quotidianamente mi trovo a contatto con persone fragili, persone sedentarie che si trovano nella situazione di dover cominciare a muoversi, di dover cominciare a svolgere un'attività di movimento e si tratta per loro proprio di un'esigenza primaria, funzionale in quel momento. Per questo mi succede quotidianamente di mettermi nei loro panni, quindi di mettermi nei panni di persone sedentarie che hanno bisogno di cominciare a fare un'attività di movimento. e conosco in parte alcune delle loro esigenze, anche alcune delle loro paure. Prima di tutto la paura di trovarsi di fronte alla loro fragilità, poi la paura di non poter effettivamente fare quella cosa, di non poter cominciare quel percorso. Per questo è necessario che l'attività di movimento, a loro proposta, sia di tipo non meccanico, non ripetitivo e non orientata alla competizione, né con loro stessi e nemmeno con gli altri. Ma invece queste persone devono essere letteralmente aiutate a imparare a muoversi, a cambiare la percezione di sé nel movimento, anche nei più semplici movimenti quotidiani. Sono Loredana Barra, arrivo da Sassari e per la WISP mi occupo di coordinare tutti i progetti sugli stani stili di vita che si fanno all'interno delle scuole. Nelle scuole quello che noi vediamo tutti i giorni è un movimento presente in realtà come un'assenza, come passività. Dobbiamo lottare tutti i giorni contro le distorsioni della vita dei bambini di oggi, dove lo sport, il gioco e l'avventura sono spesso imprigionati nella simulazione elettronica. Un altro aspetto di questa assenza di movimento vero è sicuramente il movimento incontrollato e quindi l'alta percentuale di bambini che a scuola rifiutano l'ordine, il banco e le regole. Nella scuola, come nello sport, l'apprendimento, se ci pensate, è sempre esercizio di restrizione del corpo. Nella prova la mancanza di educazione motoria nei programmi ministeriali scolastici, nei percorsi educativi. E nello sport invece un tipo di movimento inteso come specializzazione, addestramento e selezione, troppo precoce. Gaia Fiorini, Punto Luce Genova, Punto Luce che è uno dei 16 punti luce attivi sul territorio italiano promossi da Save the Children e per Genova coordinato appunto dagli operatori del WISP di Genova. Punti luce che sono dei veri e propri centri educativi e in collaborazione per esempio su Genova con WISP, sportivi. Le attività che vengono svolte all'interno del centro sono attività scritte e decise proprio sulla linea di quello che è l'esigenza del territorio, quello che il territorio chiede. Lavoriamo sia nelle scuole che nel nostro centro educativo che viene ospitato da un circolo arci di Sestre Ponente, quartiere periferico della città di Genova. Le attività vanno da attività ludiche come possono essere i laboratori, più attività strutturate come possono essere per esempio le percussioni, i laboratori musicali oppure i laboratori appunto sportivi. Quindi l'attività motoria è alla base, lo sport per tutti promosso dal WISP è alla base, sta alla base di questo progetto di Punto Luce a Genova. Quindi facciamo attività di skate, attività di pop, parkour, importanti sono le attività poi trasversali che mettono insieme la cultura e lo sport, come per esempio le attività di teatro-movimento, nate da un'idea nella scuola e poi promosse anche durante le attività del pomeriggio. Importante è la collaborazione poi tra i comuni, quindi con il comune di Genova, il centro servizi appunto di Genova e la nostra attività sul territorio. Grazie.